Tutti due scompagni, pali, traverse, non entrava. Sì, hai detto tutto duro, diciamo che hanno fatto una grande prestazione, tutta la partita nella metà campo, però sì, un po' per sfortuna, un po' sicuramente per il merito nostro, la Pada non ha voluto entrare, non ha preso alcun gol a freddo, subito, che sicuramente non ci ha aiutato perché ha voluto rincorrere tutta la partita. Quindi, purtroppo, di maniera ammalico per una grande prestazione, però purtroppo senza punti. Sulla traversa di Perla, questa volta fischiato fuori gioco? La Palla però non era entrata direttamente. Tu non hai visto, è arrivato lì, praticamente non posso dire, quindi non lo so. Sei in condizione, sei tenuto fino alla fine o l'ultimo quarto gol era in posta? No, mi sentivo bene, si sto bene tutta la partita, poi è normale, gli ultimi dieci minuti ho giocato molto sulle palle alte, seconde palle, quindi era più un gioco di lotto, per virgolette, più che un gioco di palla a terra che magari aiuta più con un giocatore con le mie qualità. Anche te hai fatto una bella lotta. Mi hai morti, sì, però nel primo tempo, sì, sì. Ti senti dato indietro. E niente, adesso insomma bisogna giocare con il coltello tra i denti e... No, come ho detto, la prestazione sia stata anche oggi, però ci sta mancando quella cosa lì, un pizzico magari di fortuna, un pizzico di cattività in più e... è questo. Quindi adesso andiamo a termine con lo stesso spirito e andiamo a fare il punto eterno. Poi c'è Pordenone... Sicuramente, magari con le squadre in una campo di giocare, con le squadre importanti, anche perché comunque noi giochiamo sempre, quindi... Andiamo lì, ce la giochiamo, sicuramente loro lasceranno anche il campo dietro perché sicuramente vorranno attaccare, poi si dovranno attaccare gli spazi che ce ne procederanno, per un po' per l'occasione sicuramente più bene. Diciamo che la sfortuna è fatta un po' anche da sua parte, perché diciamo è da Trieste praticamente, che tra legni pali... diosca... non c'era uno spazio. Sì, meglio di Trieste, perché comunque, a parte il gol non ricordo altre palle welterrenate. Diciamo? Diciamo. Diciamo. Diciamo, aspettiamo a partire pro lazio! ho Roh o ho fatto... beh, a parte il gol ma un poidamente ch drink Nee, una godО dioscienza. Ah sì, c'è stato fatto il palo, eh? Sì. Palo interno, poi. Palo interno, di solito faccio tre volte. Guarda quello del Monza, secondo me la scorsa. Palo del tuo, però c'è il palo. E' un palo che va così, noi dobbiamo continuare a lavorare, a lavorare come oggi. Sfruttare delle occasioni e non concedere quel poco che stiamo concedendo. Perché anche oggi, salvo il gol, non l'abbiamo concesso quasi niente. Quindi proseguirò il loro attacco. Non sono solo le statistiche, ma sicuramente mi sta parlando a tirare 1 euro. Però non sono più. Ok. Ok. Tu basta.